Ok, abbiamo aggiustato l'origine, abbiamo aggiustato la texture, adesso vediamo il terzo punto fondamentale che è quello di ridurre il numero di punti, no, il numero di vertici. Abbiamo visto che in questo caso, layout, se clicchiamo su questa opzione, vedete dove c'è il triplo coso, e facciamo statistics, vediamo quanti vertici abbiamo. Abbiamo 1.800.000 vertici e 3.000.000 di facce. 3.000.000 di facce sono francamente troppo per, o 1.820.000 vertici sono troppe per la realtà virtuale, quindi dobbiamo ridurre queste cose nell'ordine di qualche decinaia di migliaia al massimo. Allora, come si fa? Allora, lo strumento principale per queste operazioni, facciamo n, togliamo questo, è semplicemente quello di usare il decimate, quindi adesso poi ci impiega relativamente abbastanza per ridurlo. Diciamo che dato 1.820.000, l'ideale è scendere tipicamente molto di meno, quindi a un decimo se non molto di più, ecco, no? E questo si va molto a tentativi, infatti questo video vi fa vedere alcuni tentativi che conservino però, preservino le texture. Quindi ricordatevi di aver sempre selezionato questa penultima icona, perché se avete altre icone non riuscite a capire. Quindi andate sull'ultima penultima icona, vedete cosa vi dice, e poi a questo punto andate e fate sicuramente il decimate che vi ho insegnato svariate volte. Aggiungete il decimate, il decimate ha la possibilità di definire una percentuale. Allora, la percentuale qui facciamo, è un po' difficile a dire quale potrebbe essere, ma diciamo che facciamo un decimo per cominciare, no? Quindi 0,1, quindi da 1.800.000 cerchiamo di scendere a 180.000, ok? Quindi facciamo 0,1, in mio caso, e poi lo lasciamo lavorare. Ok, ci ha impiegato circa un minutino, forse se il vostro computer è un po' più lento potrebbe impiegarci parecchio di più. Il problema, vedrete adesso, è che praticamente qui abbiamo una, le mesh prodotte sono in realtà sbagliate, perché tutti questi puntini che vedete vuol dire che sono dei buchi, sono sostanzialmente dei buchi nell'architettura. Allora, innanzitutto facciamo l'apply di questo in modo tale da almeno lavorare con un'immagine un po' più piccola, un po' più piccola vuol dire che in questo caso abbiamo 333.000 vertici, che diventa quasi umana. Ok, anche solo per applicarla ci ha impiegato un minutino, insomma una quantità di tempo abbastanza elevata, però vedete siamo arrivati soltanto a 300.000 triangoli, che andrebbe già bene. Però questa cosa qua, portata in mondi virtuali, è brutta e orrenda, perché ci sono tutti questi buchi. Quindi la primissima cosa che facciamo è andare in Edit, quindi con Tab, andiamo nelle mesh e poi dovrebbe esserci una clean up, eccolo qua, e nel clean up cerchiamo di intanto fare in modo tale di unificare tutti i punti che sono molto vicini, quindi facciamo un merge by distance. Questo è importante perché molti punti sono sostanzialmente talmente vicini che possono creare eventualmente dei buchi, ma questi buchi sono dovuti al fatto proprio che sono distanti. Invece il merge by distance dice che se ci sono dei punti, dei vertici tanto vicini, li immergiamo, cioè li fondiamo insieme, cosa che oltretutto dovrebbe ridurre il numero di vertici, che è adesso 333.000, e vediamo un po' come riduce. Li ha ridotti un po', vedete che sono solo 326.000, ma se andiamo in Edit Mode, vedete che abbiamo ancora queste imperfezioni. Allora, per risolvere queste imperfezioni, torniamo in Edit, prima Object, e andiamo sempre sulle mesh e sempre sul clean up che abbiamo qua, e facciamo Fill Holes. Fill Holes serve proprio per togliere i buchi, e questa è un'altra operazione che in questo caso, non sempre necessaria, ma in questo caso si è resa necessaria. Fill Holes, quindi ci impiegherà il suo tempo. Ok, Close Daly Hall ci ha impiegato una mezz'ora buona. Ha fatto un po' di lavoro, ma direi che continuiamo a provare a fare quello che mi ha fatto prima, cioè il clean up, mettendo insieme i Merge by Distance, che è questo, e gli mettiamo come distanza non 0,0001 metri, ma facciamo 0,01, ad esempio, metri, perché così dovrebbe, intanto essere un po' più rapido, andiamo un po' a vedere se ha fatto, quindi lo rivediamo il nostro... ecco, come vedete che abbiamo praticamente ancora dei buchi qua, l'obiettivo sarebbe di ridurre questi buchi al minimo possibile. Ok, quello che vedete l'ho ottenuto applicando successivamente Decimate, e quindi riduzione anche, come vi ho visto prima, del data da Mesh, siamo andati sempre col clean up, siamo andati sul Merge by Distance, e l'ultima che ho fatto praticamente su 0,01 metri, proprio per cercare di far fuori, insomma, gli ultimi buchi strani. In realtà sono riuscito ad arrivare a un livello molto molto basso, siamo praticamente a 20.000 vertici e sostanzialmente a 37.000, 36.000 facce, quindi praticamente un centesimo dall'inizio, forse un pochino troppo, ma comunque il concetto è che adesso abbiamo un qualche cosa che è facilmente, diciamo, portabile nei mondi virtuali, no? Qui ci sono ancora alcuni difetti che eventualmente potrebbero essere risolti eventualmente a mano, per esempio qui c'è un buco, questo buco si può fillare a mano, eventualmente, vedete che l'ho corretto, praticamente, semplicemente andando sulla, facciamo ctrl z, così lo vedete un po' meglio, vedete che questo c'era il buco, il buco l'ho fillato a mano, semplicemente facendo click, e poi shift click, shift click, shift click, facendo il quadrato, poi F, ed è che si chiude, e poi facendo click, shift click, e click, fate F, si chiude questo. La UI non è eccezionale, ma comunque, insomma, ci sono dei piccoli restauro di questo tipo, insomma, possono anche funzionare, diciamo che è una forma di restauro, e qui probabilmente vedete che ci sono altri posti in cui intervenire, tipo qui c'è un altro buco, e qui anche bisognerebbe fillarlo, quindi, per esempio, si fa shift 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 shift, andiamo un po' soltanto di aver preso il buco giusto, e poi facendo F, praticamente, si chiude anche quel buco. Quindi, in generale, è un po' un lavoraccio, però si può fare, quindi, come vedete, abbiamo ottenuto praticamente ovviamente un qualche cosa che nei mondi virtuali, anche se non è poi perfetto, adesso lo vedremo, comunque è piccolissimo, quindi può essere inserito in qualunque tipo di mondo virtuale. Ovviamente dovete cercare di, magari aumentando, insomma, la risoluzione, quindi non così basso, però evitare di avere comunque questi difetti, oppure, se non altro, possono anche essere accettabili, se non si vedono, poi fate una prova, portandolo nei vari mondi virtuali. Allora, per ovviamente tutto, nel prossimo video farò vedere come l'import di questo oggettino genererà un oggetto molto, molto piccolo, e quindi facilmente importabile in qualunque mondo virtuale.